Lunedì prossimo 18 novembre 17.30 presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Spezia un ultimo incontro della serie Ministeri e Ministerialità. Dialogo ipotetico con Italamela sarà l'argomento portante. Certamente, la relatrice Anna Maria Valli è una suora del monastero di Monte Fiascone, monastero benedettino nel quale Italamela era solita recarsi in ritiro spirituale. E la relatrice è una studiosa proprio di Italamela. Di che cosa parlerà? Probabilmente ci troveremo davanti a una riflessione importante che caratterizza proprio la religione cristiana, un po' come un unicum, nel senso che col battesimo la Trinità, questo ha sempre sottolineato Italamela, entra, prende dimora in noi. La Trinità che è il massimo della reciprocità. Tre persone diverse l'una dall'altra, ma contemporaneamente una sola. Questo dovrebbe essere la Chiesa, in una grande unità, nella diversità e nella reciprocità. Ossia ciò che ciascuno di noi possiede e che manca agli altri e che può essere donato e scambiato gratuitamente e continuamente. Quindi, per esempio, prima di tutto la grande differenza, uomo e donna, maschio e femmina. Italamela, per esempio, donna, ha dato un contributo enorme in questo senso. Un contributo che ancora stiamo scoprendo. E la Chiesa sta ancora scoprendo adesso, quindi una fonte di ricchezza grandissima. E poi, per esempio, la reciprocità tra ministri ordinati e laici. Si tratta di una serie di elementi che potremmo scoprire proprio a partire dai testi della nostra Beata. Vogliamo confermare che è un incontro, ovviamente, non solo ed esclusivamente per gli studenti dell'Istituto Superiore, ma è aperto a tutti. Assolutamente sì. Tutti coloro che vogliono, appunto, approfondire questo tema, che vogliono cominciare a scoprire anche la ricchezza di questa Beata che è vissuta fra noi. Qualcuno ancora in vita c'è che l'ha conosciuta, magari quando era giovane, quando era bambino. Quindi una santa proprio della nostra terra e del nostro tempo. Quindi tutti assolutamente invitati lunedì alle 17.30 in via Malaspina.